Saluto l'architetto Claudio Silvestrin e subito chiedo a lui una domanda che spesso in molti si fanno riguardo al suo lavoro. Si usa spesso parlando dell'architetto Silvestrin con il termine minimalista, quindi si usa questo termine minimalismo. Mi chiedo se ci può spiegare cosa significa questa parola e soprattutto se ritiene che la riguardi direttamente nella vita e nel lavoro. Penso che se vengo chiamato minimalista o dicono che faccio l'architettura o del minimalismo, devo accettare questo giudizio, questo modo di dire come un dato di fatto. Non me la prendo più di tanto, anzi lo accetto come dire che oggi siamo a San Donato del Piave, cioè come un dato di fatto. So che è un nome che i media hanno preso in prestito dall'arte minimale, ma più che accettarla o non accettarla, vorrei dire che io vado avanti per il mio lavoro, per i miei valori, indipendentemente se questa, diciamo, parola, questo stile, eccetera, è di moda o non è di moda. È molto interessante e lo chiederò successivamente il suo rapporto con la tecnologia, però prima partiamo dai materiali. a quanto per lei sono fondamentali, io penso che siano la primaria fonte di ispirazione, almeno da quello che, da coloro che guardano le sue architetture. Direi che una cosa che forse potrebbe essere interessante come punto interrogativo è chi è che fa il design? Sono io o sono immateriale? Cioè, quando uno entra in un negozio fatto da qualcuno che non nomino, perché non è corretto, legge o il designer o l'architetto. Idealmente si dovrebbe entrare in uno spazio e dire che bella questa pietra, il materiale che dovrebbe in teoria darci delle emozioni e non la gestualità dell'architetto. E' interessante questo aspetto dove il cosiddetto design, tra virgolette, non viene espresso dalla mano dell'architetto, ma è dal materiale. Cioè il materiale che ti parla e non la firma. E questo è un punto interrogativo, una cosa, tra virgolette, di ambiguità, su cui a me personalmente interessa riflettere. Cioè cosa viene comunicato. Quindi la forte presenza di materiali naturali è quasi a diluire l'importanza della firma dell'architetto. L'architetto è come se fosse nascosto. Io mi ricordo che ho fatto un allestimento per Anish Kapoor a Londra, alla Hayward Gallery, che mi è stato commissionato da lui in persona. Alla fine, tutti pensavano che l'allestimento fosse stato fatto da Anish Kapoor. Allora, un architetto ossessionato di se stesso potrebbe andare a dormire piangendo. Invece nel mio caso, io ero orgoglioso perché l'architetto c'è, ma non si vede. Cioè esalta il motivo per quale è stato chiesto a fare un servizio. Innanzitutto le chiedo qual è il suo rapporto con la tecnologia che le permetta, ad esempio, io dico veramente una stupidaggine tra tutte le cose che lei ha ideato, però che le permette di pensare ad un faretto nel quale tutto ciò che sono le viti, o comunque, insomma, un faretto quasi dove è solo la luce che fa emergere il disegno. Il disegno è l'unica cosa che fa emergere la luce. Non si vede dietro una tecnologia che sicuramente c'è e su moltissime altre cose che lei ha ideato. Che rapporto ha con la tecnologia? Dunque, la tecnologia purtroppo oggi la si romanticizza. A me non interessa romanticizzarla, se mi interessa di esprimere il valore acqua o di esprimere il valore luce, la tecnologia mi serve per esprimere questo valore. Ma se devo esprimere la luce, non mi interessa né la lampada né le viti che la sorreggono. Oppure mi interessano come elementi secondari che mi permettono di esprimere il valore luce, inteso come magia della luce, atmosfera della luce. E quindi la tecnologia la uso, come si usa l'automobile per andare da A a B o il treno. Molto semplice. L'importante è non romanticizzarla, non farla come fosse una dea, come fa l'architettura high-tech. Avevamo parlato prima appunto di tecnologia, ma avevamo anche parlato, aveva accennato al discorso della natura. Per quanto mi riguarda, io spesso nel leggere alcuni suoi progetti trovo alcune affinità elettive proprio con una specifica forma d'arte che è la land art. Non so, le stesse sensazioni, la simile percezione della natura. Allora, vorrei sapere cosa che ho assolutamente ritrovato nel suo progetto di quella fantastica casa irlandese e mi chiedo se può essere corretta un'interpretazione del genere, quasi un'affinità con Richard Long o Finlay, se può essere corretta una tale considerazione del suo lavoro. Sì, non è che io copio da loro, eccetera, però mi interessa tutte le cose serie nel campo dell'art, nel campo della tiratura, eccetera. Quindi la land art è una delle cose più serie fatte ultimamente, ma non è che io vado a sfogliare libri per copiare, eccetera. Ci sono delle affinità forse etico-filosofiche, se vogliamo chiamarle così. Quindi questo è il rapporto uomo-natura. Un artista lo fa dal suo punto di vista, io lo faccio nel mio lavoro, ma penso che sia più che altro un atteggiamento e scelte di valori come metto in relazione a un albero. Lo taglio, lo lascio lì a livello decorativo, oppure lo valorizzo. Io, per esempio, per la casa in Irlanda c'erano due grandi querce stupende e l'intenzione è che le querce non venivano valorizzate, ma addirittura che i rami e le foglie toccassero fisicamente le grandi vetrate della casa. E quindi era come se la natura volesse, bussasse alla porta per entrare nella casa. Questo era il mio pensiero, tra virgolette, se vogliamo, poetico. Che poi la Land Hard faccia anche questi tipi di discorsi mi va benissimo, vuol dire che non sono matto, ma che ci sono anche altri che pensano che bisogna esprimere delle cose che danno certi valori agli elementi naturali. Qual è il suo rapporto con l'arte? L'arte per me è fonte di ispirazione. Quindi, ad esempio... Sia arte del passato che arte contemporanea. Quindi, ad esempio, in questo suo recentissimo progetto, impegno per la fondazione Sandretto Rebaudengo a Torino, è l'arte che l'ha ispirata. Cioè, un progetto, io penso, che parte sempre da un'idea. In questo caso, per il Museo di Torino... Ma non è che io mi ispiro all'arte e faccio un edificio. Mi ispiro all'arte in generale nella vita. Nello specifico del progetto del Museo, so che c'è un'esigenza da parte degli artisti di lavorare in spazi, tra virgolette, neutri e non spazi dove c'è conflitto tra arte e architettura. Questa è la cosa importante. Se l'architettura è neutra, l'arte può, o l'artista, può lavorare, esprimersi, creare, fare in un modo armonico con l'ambiente in cui lavora. Se c'è conflitto, ne va a svantaggio dell'arte sperimentale, eccetera, e in un certo senso ne va anche a svantaggio dell'architettura. Però sono tutte questioni di opinioni, di scelte. Fortunatamente la Sandretto la pensa come me, quindi anche lei uno spazio neutro è preferibile a uno spazio sensazionalista. Però moltissimi potrebbero pensare al Museo di Torino come uno spazio troppo neutro, che non fa scena. Oggi bisogna far scena. Se si fa scena la gente... Ti guarda e ti ascolta. Eh, bisogna urlare. Se ti urlano la gente ti ascolta, se non urli la gente non ti ascolta.